5 novembre 2017 giornata grigia ventosa vedete le fronde degli alberi come si muovono il rumore del vento e ora andiamo a vedere un attimo l'ingresso la regina gamma che è quella che potete vedere attualmente sull'home page le api continuano a uscire e a entrare tranquillamente e qualcuna porta anche polline nonostante nella zona ormai le fioriture non ci sono più questa zona ci saranno tre corbezzoli in tre chilometri quadrati e praticamente niente altro in questo periodo dell'anno dovranno in giro qualche fiorellino che non so neanche io di cosa si tratta come potete vedere il bosco è tutto giallo la vi farò vedere le foglie stanno cadendo quindi corrisponde a questo periodo dell'anno che è prossimo al sostizio d'inverno che cadrà il 21 dicembre quest'uno giro un Grazie a tutti.